Il fiocco rosa appeso sulla porta d'ingresso, il lenzuolino della culla di Megan steso al sole, immagini di una vita normale, di una famiglia serena, sconvolta ora da una tragedia troppo grande da accettare. Oggi c'è un silenzio quasi irreale attorno a questa villetta di via Cartiera a Rossano Veneto. Al campanello di casa non risponde nessuno, troppo forte il dolore, non c'è più nemmeno la forza di parlare. Il dramma si è consumato nella notte, intorno a l'una e mezza. Megan, nata a gennaio a San Bassiano, stava dormendo nel lettone con i genitori e il fratellino di sei anni. All'improvviso il malore. Il papà, Daniel, 30 anni, e la mamma, Irina, 24, si sono accorti che qualcosa non andava, che la loro Megan, cinque mesi, non stava bene. Subito hanno chiamato i soccorsi sul posto, sono giunti i sanitari del suo M118 che hanno tentato di salvarla per quasi un'ora. La rianimazione cardiopolmonare è stata però inutile e alla fine è stato constatato il decesso. Le cause della morte sarebbero riconducibili a un arresto cardiaco, ma con ogni probabilità la Procura della Repubblica disporrà l'autopsia per fare chiarezza sul decesso della piccola Megan, mentre i carabinieri avvieranno gli accertamenti del caso perché vengano chiariti tutti gli aspetti di una tragedia che nessuno si aspettava. Un dolore immenso per la famiglia Neculai che prima di trasferirsi nel 2020 a Rossano Veneto viveva a Tezze sul Brenta. La notizia della tragica scomparsa della bambina si è diffusa rapidamente in paese destando grande sconcerto. È una tragedia immensa, è un dolore che non potrà lasciare cicatrici. Siamo vicini alla famiglia per qualsiasi cosa abbiano bisogno e prego anche la nostra comunità che si è sempre dimostrata generosa e attenta di essere vicini a questi giovanissimi genitori.